Ciao ormai, benvenuti in questo primissimo episodio della CreateCraft del 2023 e noi dobbiamo iniziare quest'anno con il botto e quindi oggi ho deciso che andremo a prosciugare il nether andremo a creare una farm di lava infinita su Minecraft quindi, come sempre, siete nuovi, iscrivetevi al canale, lasciate like per il prossimo episodio e iniziamo subito E ragazzuoli, eccoci qua, eccoci qua Allora, nelle scorse live che se cazzo meno le tue viste andate sul canale Emerald Live per andarle a rivedere abbiamo completato la zona delle vele del Kerberos quindi c'è le vele che però non sono vele, sono le eliche o che insomma sono le produzioni di energia a parte energia eolica del Kerberos che poi andremo ad accumulare in un altro punto ma oggi faremo altro oggi faremo altro perché poi andremo a continuare questa roba prossimamente nelle prossime live però oggi cosa andremo a fare? oggi ragazzi andremo nel nether per andare a creare la produzione massiva di lava dobbiamo accumulare tanta lava a cosa ci servirà la lava? possiamo farci la farm di andesite che ci servirà sempre e abbiamo anche l'utilizzo della flint in questo caso quindi la gravel la produciamo, la flint pure direi che fare una farm poi casomai di andesite che comunque è il blocco insieme al ferro che utilizziamo per fare le robe principali della create e tanta roba è veramente tanta roba così noi non abbiamo più problemi abbiamo una bella farm di andesite però comunque volete o non volete la lava la possiamo utilizzare per mille cose differenti dal carburante alla decorazione al creare anche una farm vera di ossidiana ci andiamo proprio a creare ossidiana perché prendiamo tanta lava e facciamo una farm di ossidiana e sapete che un bucket di lava o anzi un blocco di lava diventerà un blocco di ossidiana insomma possiamo fare un sacco di cose quindi tanta bella robetta allora mentre qua va a produrre tutto volevo mostrarvi appunto del perché della farm di andesite che sarà interessante perché noi comunque qua dentro abbiamo 678 di flinte che non ci facciamo nulla quindi questa flinte la possiamo trasformare poi in andesite grazie alla lava insomma avere tanta lava ci permetterà di fare diverse cose anzi riciclare casomai qualche roba poi altra robetta importante eccoci qua proprio lui proprio lui mi avete detto che praticamente lui lo possiamo controllare a distanza soltanto ha fatto sì ha fatto sì lo possiamo controllare a distanza soltanto se abbiamo lo stesso suo cappellino quindi ci sta poi lo andremo a provare dobbiamo ancora scegliere il nome prossimi episodi ragazzi sceglieremo il nome dell'aiutante anche perché nello scorso video ed è commentato con un sacco un sacco di nomi abbiamo bisogno dei tank quindi questi ci siamo una fonte di energia e mi sa che andremo all'aiutante anche ce l'abbiamo però mi sa che come fonte di energia andremo a utilizzare di nuovo quella eolica quindi vuol dire che andremo a fare un paio di pale così di nuovo come fonte di energia dentro il nether perché dobbiamo far andare un motore elettrico che va naturalmente a corrente un motore elettrico e questo qua serve per forza una fonte di corrente adesso non so se si può portare la corrente dall'overworld nel nether casomai ve lo farete sapere voi però non lo so raga non lo so mi sa forse di no e direi di usare tipo quelle là come fonte di energia possiamo usare quelle come fonte di elettricità oppure possiamo usare il windmill zonne windmill quello abbiamo poi bisogno ragazzi di una pompa ma mi sa che la pompa forse ce l'abbiamo da qualche parte la pompa ce l'abbiamo i tank ce l'abbiamo abbiamo bisogno poi dei tubi e ce l'abbiamo ne facciamo casome gli altri abbiamo bisogno in realtà delle hose hose questo hose palle palle serve un blocco di kelp questo e un copercase facciamolo subito ne facciamo due tanto che ce frega tanto abbiamo due di queste guardate proprio due di blocchi di questi ce l'abbiamo fatta al volo vai qua fai proprio così stuc 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 e stuc ce l'abbiamo due easy ci serve poi e qua siamo pieni quindi possiamo fare in realtà la fonte di elettricità volendo ma se faccio un uno di questi e via la possiamo fare tipo al volo serve nickel plate e il nickel ce l'abbiamo mi sa si nickel ce l'abbiamo qua quindi si può fare nickel plate serve bucket d'acqua che abbiamo da qualche parte qui ce l'abbiamo in bucket d'acqua serve questa per questo allora facciamo un attimo questo ce l'abbiamo facciamo martello ce l'abbiamo e poi abbiamo bisogno nell'iron she e l'iron she ce l'abbiamo da qualche parte eccola qua ah e manca il legno trattato naturalmente andiamo a fare ragazzi il legno trattato allora tac tac e abbiamo un accumulator fatto questo già che ci siamo anche perché abbiamo già tutto praticamente facciamo le sales che sono ah no scherzavo le windmill servono queste si fanno così ne servono 16 eccoci 1 2 3 olea allora dobbiamo fare così così e abbiamo queste ora dobbiamo fare poi queste qua che in realtà ne abbiamo già 4 qui qua dentro possiamo craftarne altre quindi direi che ci prendiamo questi sticchetti e anche il legno trattato e ci andiamo sopra a fare il resto ah e dobbiamo fare i dynamo i grandissimi oli di minchia proprio quello quindi ragazzi l'obiettivo è questo creare tutto un sistema per prosciugare il nether ah mi ricordo che di questo dobbiamo fare tipo ok ne dobbiamo fare un ma proprio un botto beh ragazzi incrociamo le ditas ce ne servono ancora 5 dobbiamo farne 16 di queste quindi è di momento di nistuncare questa farm questa grandissima farm nistunc perfetto vai 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 olè e me vuoi farlo con gli stick normali ah si ma io piango ma seriamente cioè raga come con gli stick normali cioè è stata tutta una burla in la mia vita finora allora ma porca zozza 18 va benissimo e questo ce l'abbiamo ok il nether lo possiamo mettere qua dentro raga dobbiamo fare soltanto adesso i due dynamo dynamots eccoli ok stick e copper wire copper wire che non abbiamo adesso e dobbiamo fare ora il copper per fortuna ce l'abbiamo mettiamo subito a fare un pochino di copper wire aspetta aspetta io non devo fare caccavolate eh e infatti già stavo a fare la minchiata stucca e stucca se ci vedi sotto il camfer produi una rotazione davvero? non lo sapevo matita ormai vado avanti con questo perché ormai ho quasi finito e abbiamo tutto l'occorrente ah nel mentre io per sicurezza mi faccio pure con un'altra pompaz perché così possiamo fare anche un sistema doppio alla fine allora io farei nel mentre delle valvole le valve uno due due valvole ok così abbiamo bene o male tutto l'occorrente ah beh oddio dovrebbero bastare comunque dynamo questo questo stucca 64 questo questo uno e uno due e due dynamo ce l'abbiamo uno e uno due allora ragazzi dovremmo avere tutto l'occorrente per fare finalmente quello che ci serve per prosciugare il nether andiamo a prosciugare il nether così bonjour bonjour e così qui allora io farò in realtà una bellissima cosetta porco torti pareva non era a prendere fuoco però raga ve lo assicuro allora dovremmo sbucare da qualche parte eccoci allora raga io vi dirò secondo me questo per essere un buon punto per prosciugare il nether che dite secondo me ci sta allora iniziamo un attimo con il tutto allora intanto dobbiamo capire dove fare la corrente ma quello sticaz lo possiamo fare in qualsiasi punto in realtà la roba principale è dove mettere gli oh spulle proprio questi li andremo a mettere anche soltanto uno allora come viene messo questo io lo piazzo così ah e lo posso girare ma io ho un'idea se faccio prima tutta la piattaformina tipo così e piazzo prima questo è ok allora qui c'è il tubo qui scenderà la manopolina quindi andremo a mettere tipo manopolina qua qua buco e così qua sotto dovrà scendere la la nice la sciolletta che che succhiara tutta la lava qua abbiamo il tubo di conseguenza tubo 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 qua possiamo mettere il tank se tipo il tank lo vado a mettere al diante possiamo fare tipo una base più grande così allora la faccio un attimo in netherrack proprio vabbè la faccio anche più carina volendo uno due tre si fa così uno due tre e olè poi il tubo che fa così ed è collegato dobbiamo capire dove mettere la pompa mo la pompa io la andrei a mettere sinceramente proprio attaccata qui quindi spaccherei questo pompa qui e dobbiamo naturalmente attaccarci il motore elettrico con eventuale cogwell eccetera ora dobbiamo capire anche un'altra cosa se io metto una cogwell mettiamo una cogwell che è importante tipo qua ci serve comunque questo lo speed controller perché la pompa non chiede tanta potenza ma vuole tanta velocità e in realtà io potrei mettere questo sono confuso aspettate ok ce l'abbiamo qui metto allora il motore grande motore elettrico ci serve questo questo e eventualmente dei wooden post e penso che abbiamo quasi fatto perché metto questo che va qua e poi abbiamo bisogno della farm tra i diretti di corrente prendiamo un pochino di netherracks da qui allora mettiamo qua e qui ora sopra questi pali mettiamo il dynamo allora uno e due ok allora tutto sta prendendo forma eh fatto questo stuc noi si intersecano later già ci siamo già ci siamo ragazzi allora mi chiedete come fa a starci il vento nel nether ma io che ne so che l'ho inventato io raga c'è c'è a quanto pare c'è il vento nel nether adesso noi abbiamo due fonti di corrente dobbiamo mettere la grande batteria batteria che poi darà la corrente anche al motore ora visto che è tutto fatto così sapete che quasi quasi io andrei a mettere una roba al centro così uno due ok e qua ci siamo al suo perché al suo perché ora ti dico io la batteria la potrei mettere anche qua sotto perché ci metto il pisnellino qua cavetto cavetto però abbiamo sia questi che anche gli stunk che sono importanti quindi se abbiamo cavetto lì cavetto là eccetera quindi che ne so questo da qui va qua questo da qui va qua e questo da qui va qui noi dobbiamo poi dare corrente a questo di conseguenza pensavo ma se spaccassi questo lo spacchiamo tututututuk stuk 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 via e ne metto due così con tanto di doppia manopolina con tanto di prendere altra netherrack perché se no casco giù e fare quindi anzi mettere questa qui con manopolina qui buchetto qui e poi uno due tre e quattro qui mettere pompa una pompa due mettere poi questo qui no scherzavo grande prank finito malissimo grande rotella qui e questo così è un sistema perfetto così ci sta un botto e quindi possiamo fare un aia mi sono calato in mano uno due qui c'è il motore il motore ah no e io come faccio girare questo mi si è rotto il cuoricino eh non si può devo per forza aspetta un attimo scusate allora ma io non posso fare tipo così tipo uno e due tanto giù non ci casco questo va così questo si toglie ok e andiamo a mettere allora una qui un'altra qua questo che tipo va qua poi questo che fa così che va qui così ragazzi abbiamo doppio input sarà pure molto più veloce e ci siamo serve soltanto adesso a capire una cosa allora io posso prendere ragazzi grande rotella mettere questa così grossa rotella stuc e poi così mi sa che quindi questo brasato temporaneamente i tubi sono tutti corretti tubi tutti corretti sto cercando di capire se ha senso quello che sto facendo ragazzi datemi un secondo perché se metto grande rotella qui e metto questo e no così non risolvo nulla qua serve per forza rotellina qui che le collega e no mi sa che dobbiamo fare per forza in questo modo c'è questo così questo qua e questo così il motore lo vado a piazzare qui e basta c'è il motore piazzato qua qua abbiamo anche la batteria che in realtà la posso piazzare anche così e dovrebbe funzionare senza attacchini strani e andiamo a mettere il grande gni stunk fermi tutti momento gni stunk gni stunk legamento c'è prendiamo questo e andiamo a mettere qua output ed è fatta si sta caricando ora ragazzi per dargli la massima velocità e carica come sempre mettiamo le coperture delle vele mettiamo quest'altro tubo dovremmo esserci perché adesso appena tirerò questa leva dovrebbe funzionare tutto ragazzuoli se io tiro questo questo dovrebbe girare fino a prova contraria levo intanto questi blocchi intanto qua salto e via allora vediamo se intanto gira tutto stunk gira gira naturalmente è molto lento a 1024 questi sono 64 quindi è molto basso aumentiamo raga qua girano che è un piacere adesso visto che sappiamo che qua funziona io stacchierei un attimo questo stunk allora adesso se giriamo questa ragazzi guardate sta scendendo giù il tubo che finirà nella lava va che figata oddio potremmo fare una cosa fighissima invece aspettate aspetta aspetta ho idea migliore idea migliore ok se io prendo queste e faccio una e uno due e questa qui poi se io prendo anche cioè se spacco qua e faccio così io posso tranquillamente ho direttamente anche la valve questa qua va benissimo però volevo farlo con voglia in un solo punto che guardava verso il basso vediamo ragazzi funziona funziona olè guardate che figata stanno scendendo raga contemporaneamente ma che figata e adesso dovrebbero entrare nella lava tra poco vediamo un poco ok sono nella lava raga 3 2 1 si parte ecco la lava eccola ce l'abbiamo raga sta andando guardate quanto è veloce raga facciamo ogni mezzo secondo un bucket di lava funziona raga ecco a voi la nostra farm di lava infinita cioè nel senso fin quando penso non prosciugheremo tutto il nether allora la cosa bella è che dice che praticamente ha rilevato una pozza talmente grande che il gioco la rileva come infinita quindi letteralmente lava infinita ciurma come avete visto abbiamo creato una farm assurda di lava cioè è velocissima è veramente senza senso fatto sta vi ricordo di iscrivervi al canale lo trovate proprio qui quindi cliccateci subito e iscrivetevi sul canale Emera del Live dove vado a ricaricare le live che faccio sul sito viola vengono ricaricate dopo 24 ore quindi se volete vedervi le repliche delle live iscrivetevi a questo canale detto questo ciurma un bacio e un abbraccione ci becchiamo questa sarà le 20 in live sempre dove dove sul sito viola ciurma ciao a tutti